Ciao a tutti da Cadice, siamo su Enel Green Power, nostro partner tecnologico in questo progetto di vela oceanica. Siamo pronti per partire per la qualificazione per la rotta del room. La barca è pronta, tutti i sistemi di bordo sono operativi e testati, pannelli ok, idrogeneratore ok. Partiamo con il gasolio per uscire da Cadice e arrivare a Lorient. La rotta sarà un po' a zig zag perché il vento sarà per la maggior parte contrario, ma è un buon test in vista dei futuri progetti. Vi saluto da Cadice, vi saprò dire qualcosa di più dal mare e ci vediamo a Lorient. Ciao ciao!